In via Flaminia non si costruisce nulla, anzi è caduto a terra, sommerso dalle foglie, anche il cartellone che annunciava il cantiere per la costruzione di case mono e bifamiliari, a seconda delle richieste. La domanda però non è sufficiente perché i lavori partano. La crisi ha fermato l'iniziativa, peraltro colpita da una valanga di proteste ambientaliste contro il consumo di suolo. Per evitare di costruire case invendute, l'impresa avrebbe aperto il cantiere, già autorizzato dal comune, solo se fossero stati venduti lotti di terreno edificabile in numero sufficiente. Le richieste però sono troppo poche. I costi di urbanizzazione, d'altro lato, vengono considerati alti. La petizione, presentata da Guido Vaudetto, ha raccolto centinaia di adesioni su internet e da parte delle associazioni ecologiste. Nella zona le palazzine si sono già moltiplicate, proprio in un'area dove il verde e i corsi d'acqua, come il collo reale, che si sarebbe ritrovato accanto al cantiere, accompagnano un percorso naturalistico. Italia Nostra, fra le osservazioni all'ambito di trasformazione urbanistica, aveva segnalato il rischio idrogeologico e il danno al paesaggio. La cementificazione avrebbe impedito di apprezzare il costone, introdotto rischi idrogeologici e anche problemi di traffico. L'amministrazione ha risposto che le distanze di sicurezza erano rispettate e che sarebbe stato introdotto il limite dei 30 all'ora. Guido Vaudetto ha criticato l'incoerenza del centro-sinistra col programma del sindaco Galimberti, che bevedeva consumo di suolo zero. È proprio questa la richiesta sostenuta dalla petizione. In municipio, l'assessore Andrea Virgilio nota che il comune di Brescia ha ridotto il consumo di suolo già previsto dalla pianificazione, per poi ritrovarsi alle prese con alcuni ricorsi al TAR. C'è incertezza fra pubblica amministrazione e imprese edili, vista la legge regionale sul consumo di suolo. Gli ambientalisti chiedono al comune una direzione ben precisa. Non c'è crescita demografica che, mentre perdura l'invenduto immobiliare, giustifichi nuove costruzioni. Quindi ci si orienti per le ristrutturazioni. In Via Flaminia, però, non vince la politica, ma la crisi economica. L'impresa edile, in teoria, l'anno prossimo potrebbe iniziare a costruire, versando nuovi diritti di segreteria, nel frattempo diventati più cari. Di fatto, però, il cartello promozionale resta a terra. In comune c'è malumore perché l'incasso degli oneri non arriverà. Per vedere nuovi cantieri bisognerà aspettare la lottizzazione di Via Mantua, di 300.000 m2, contemporanea all'arrivo del Decathlon a Gadesco.